Pensi sia normale star seduto dieci, dodici ore al giorno, forse anche più, tutti i giorni in ambienti chiusi? Muoversi solamente con mezzi di trasporto come macchina, treno, metropolitana, autobus a quelle velocità? Aver dolori o fastidi quotidianamente? Infortunarsi correndo? Forse è normale, ma ti assicuro che non è naturale. Nel capitolo 3 andremo a vedere come la definizione di questi due termini, normale e naturale, e il loro confronto rivoluzionerà per sempre il modo in cui guardate la vostra corsa, il vostro allenamento e la vostra quotidianità.